Annabeth! Annabeth! Percy la tirò indietro nell'istante stesso in cui metteva un piede sull'orlo di un precipizio. Stava quasi per cadere, ma Percy la ferrò e la strinse fra le braccia. È tutto a posto, la rassicurò. Lei appoggiò il viso sulla sua maglietta e serrò gli occhi. Tremava, ma non solo di paura. L'abbraccio di Percy era così caldo e confortante che Annabeth avrebbe voluto rimanere così per sempre, al sicuro e protetta. Ma la realtà era diversa. Non poteva permettersi di rilassarsi. Non poteva appoggiarsi a Percy più di quanto fosse necessario. Anche lui aveva bisogno di lei. Grazie. Si allontanò delicatamente dalle sue braccia. Sai cosa c'è davanti a noi? Acqua, le rispose. Continuiamo a tenere gli occhi chiusi. Non credo sia ancora sicuro. D'accordo. Percepisco un fiume. O forse un fosso. Ci blocca il cammino, scorrendo da sinistra a destra attraverso un canale scavato nella roccia. La riva opposta è a cinque o sei metri. Annabeth si rimproverò. Aveva sentito l'acqua che scorreva, ma neanche per un attimo aveva pensato di poterci precipitare a capofitto. C'è un ponte? Non credo, rispose Percy. E c'è qualcosa che non torna in quest'acqua. Ascolta. Annabeth si concentrò. Nella corrente impietuosa migliaia di voci gridavano, gemevano agonizzanti e imploravano pietà. Aiuto! Si lamentavano. È stato un incidente! Che sofferenza! Mugolavano. Fatela smettere! Annabeth non aveva bisogno degli occhi per immaginare il fiume. Un corso di acqua nera salata, pieno di anime tormentate che venivano trascinate sempre più in profondità nel tartaro. La Cheronte! Intuì Annabeth. Il quinto fiume degli inferi! Preferivo il flegetonte, mormorò Percy. È il fiume del dolore! La massima pena per le anime dei dannati. Gli assassini in particolare. Assassini! Gemette il fiume. Sì, come voi! Unitevi a noi! Sussurrarono altre voci. Non siete migliori di noi! Ad Annabeth passarono per la testa le immagini di tutti i mostri che aveva ucciso nel corso degli anni. I miei non erano omicidi. Si disse. Era legittima difesa! Il fiume cambiò corso nella sua mente. Le mostrò Zoe Nightshade, uccisa sul monte Temalpais perché era andata a salvare Annabeth dai titani. E poi la sorella di Nico, bianca di Angelo, che moriva nel crollo del gigante di bronzo, talo, anche lei mentre tentava di salvare Annabeth. Michael Yu e Silena Boregar, che erano morti nella battaglia di Manhattan. Avresti potuto evitarlo, le disse il fiume. Avresti dovuto trovare una soluzione migliore. L'immagine più dolorosa di tutte. Luke Kestelan. Annabeth ricordava il sangue di Luke sul pugnale, dopo che lui si era sacrificato per impedire a Crono di distruggere l'Olimpo. Hai le mani macchiate del suo sangue, gemette il fiume. Annabeth aveva combattuto molte volte contro quel pensiero. Aveva tentato di convincersi che Luke non era morto per colpa sua. Luke aveva scelto il proprio destino. Eppure, lei non sapeva se avesse trovato pace negli inferi, se fosse rinato o se invece era stato gettato nel tartaro per i suoi crimini. Poteva perfino essere una delle voci dei dannati che passavano di lì ad esso. «Lo hai ucciso tu!» urlò il fiume. «Salta dentro e condividi la sua pena!» Persi le afferrò un braccio. «Non ascoltarlo! Ma lo so!» Persi aveva un tono di voce fragile come una lastra di ghiaccio. Mi dicono le stesse cose. «Credo... credo che questo sia il confine del territorio di Nyx. Se lo attraversiamo dovremmo essere a posto. Dobbiamo saltare. Hai detto che era largo cinque o sei metri?» «Sì! Devi fidarti di me. Mettimi le braccia intorno al collo e tieniti stretta!» «Ma come puoi...» «Eccoli!» gridò una voce alle loro spalle. «Uccidete quei turisti ingrati!» I figli di Nyx li avevano trovati. Annabeth cinse le braccia al collo di Persi. «Vai!» A occhi chiusi poteva solo indovinare come Persi se la sarebbe cavata. Forse avrebbe utilizzato in qualche modo la forza del fiume. Forse moriva solo dalla paura e aveva l'adrenalina a mille. Persi saltò con più forza di quanto Annabeth avrebbe mai immaginato. Fluttuarono nell'aria, mentre il fiume ribolliva e gemeva sotto di loro, schizzando pungente acqua salata sulle caviglie. Poi... Bonk! Atterrarono di nuovo sul solido. «Adesso puoi aprire gli occhi!» disse Persi, respirando a fatica. «Ma non ti piacerà quello che vedrai!» Annabeth sbatte le palpebre. Dopo l'oscurità di Nyx, perfino il tenue bagliore rosso del tartaro sembrava accecante. Davanti a loro si stendeva una valle abbastanza grande da riempire tutta la baia di San Francisco. L'intero paesaggio rimbombava, come se i fulmini echeggiassero dalle viscere della terra. Sotto nubi velenose, il terreno ondulato scintillava purpureo, percorso da lunghe cicatrici rosse e blu. «Sembra...» Annabeth soffocò un moto di repulsione. «Un cuore gigante!» «Il cuore del tartaro!» mormorò Persi. Il centro della vallata era irto di fitti puntini neri. Erano talmente lontani che Annabeth ci mise un po' a capire che stava guardando un esercito. Migliaia, forse decine di migliaia, di mostri radunati intorno a un nucleo di oscurità. Erano troppo distanti per vederlo con chiarezza, ma Annabeth non aveva dubbi su cosa fosse quel nucleo. Anche da lì avvertiva la potenza con cui tentava di strapparle l'anima. «Le porte della morte?» «Sì». Persi aveva la voce roca. Era ancora pallido e smunto come un cadavere. Anche Annabeth si sentiva così. D'un tratto si accorse di essersi dimenticata degli inseguitori. «Cos'è successo ai figli di Nyx?» Si voltò. In qualche modo i due semidei erano atterrati a diverse centinaia di metri dalle rive dell'Acheronte e scorreva in un canale scavato fra nere colline vulcaniche. Oltre c'era solo il buio più fitto. Nessuna traccia di qualcuno che li seguisse. A quanto pareva, neanche ai servi di notte piaceva attraversare l'Acheronte. La figlia di Atena stava per chiedere a Persi come avesse fatto a saltare così lontano, quando udì il rumore di una frana sulle colline alla loro sinistra. Annabeth sguainò la spada d'osso di Dragone. Persi sfoderò vortice. Una macchia di capelli bianchi scintillanti spuntò sopra il crinale. Poi apparve una faccia familiare sorridente, con gli occhi d'argento puro. «Bob!» Annabeth era così felice che fece un salto. «Oh dèi! Amici!» Il titano si avvicinò ai ragazzi, muovendosi a passi pesanti. Le setole della scopa erano bruciate. La tuta da inserviente era lacerata da nuovi strappi di artigli, ma lui sembrava felicissimo. Sulle sue spalle, Bobbino faceva le fusa, emettendo un rumore forte quasi quanto il battito del cuore del tartaro. «Eccovi qua!» Bob li stritolò entrambi in un abbraccio. «Sembrate di morti fumanti! Bene!» «Come hai fatto ad arrivare?» chiese Persi. «Sei passato per la dimora della notte!» «No, no!» Bob scosse la testa. «Quel posto è troppo spaventoso! Ho preso un altro percorso, che va bene solo per i titani!» «Fammi indovinare!» disse Annabeth. «Sei passato di là!» Bob si grattò il mento, a corto di parole. «Mmm... no, più... in diagonale!» Annabeth rise. Erano lì, nel cuore del tartaro, ad affrontare un esercito di mostri. E lei aveva tutte le intenzioni di godersi qualsiasi fonte di consolazione. Era felicissima che Bob fosse di nuovo lì con loro. Lo baciò sul suo naso immortale. Lui sbatte le palpebre, imbarazzato. «Rimaniamo insieme adesso?» «Sì!» confermò Annabeth. «È arrivato il momento di vedere se la foschia della morte funziona!» Se non dovesse funzionare, Percy non proseguì. Stavano per marciare in mezzo a un esercito nemico. Se qualcuno li avesse visti, sarebbero morti. Nonostante tutto, Annabeth abbozzò un sorriso. La meta era vicina. Avevano un titano con la scopa e un gattino molto rumoroso dalla loro. Qualcosa doveva pure voler dire. porti della morte! Arriviamo! «Italia!»